Ciao a tutti ragazzi su ObatD e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi faremo l'unboxing di questo portachiavi di Fortnite. Visto che io amo così tanto non solo i creatori della playstation ma Fortnite, mi sono portato pure il controllo con cui gioco. Sì, mi sa che ho leggermente esagerato. Comunque, questo personaggio è la testa di pomodoro. Mi sono portato peraltro pure delle forbici se non riesco a farlo in un modo così mi dico. Allora, il mio personaggio è la testa di pomodoro e ce ne sono tanti ma tanti altri, cioè compreso il lama. Mai dimenticare di l'Amazon Fortnite. Allora, io inizio. Cos'è successo? Mentre arrivo il pacchetto si è liberato che mi si è portato il personaggio. Comunque, qui ci sono delle skin della stagione 7 e se apro qua la bella skin del fondatore ma c'è altro che è noto. Ecco, queste sono le cose che si possono vedere da questo lato e queste sono le cose che si possono vedere da quest'altro. Se a me fosse un messo troppo alto li faccio rivedere. Comunque, ora il personaggio di testa di pomodoro si vede meglio. Io tipo lo metto in mezzo al controller e diventa qualcosa d'assurdo. Tipo, ho fatto un esempio. Io che sto giocando a Fortnite con il joystick e mi trovo attaccato il pomodoro. Comunque, domani uscirà un video di Fortnite che avevo registrato già in passato. Sembra nella stagione 8. E allora nella stagione 8 di questi portachiavi non si sono trovati. Beh, la stagione 8 è una delle stagioni più importanti della Epic ma va bene lo stesso. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un bel pollice in su e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non vederli altri video tra un boxing oppure il video che sarà per arrivare a di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!